nome loris detto anche zio gnocchi leccate spesso fagioli si tutti i giorni catenaccio preferito italiano quello della juventus ammi le noci si grattugiate su parale descriviti il tuo modo di fare lo scemo in tre labili mosse come inizi le tue frasi ora certo in pratica mi fa chi di voi fa più spesso mangi giampi lui lui imita più franco ancora toccatevi l'incranio bravi preferite riccardo pacci o vincenzo montella vincenzo montella abbaia descriviti in una parola a michele bastagnelli l'ultima volta che hai mangiato un'acciuga proprio adesso ieri dedica il marino amatarese scatarese maionese tifibari no animale selvatico preferito cingale leobullota hobbili invernale pesca sul lago definisci ricardino fuffolo un buon attore ottimo direi ho detto fuffuffolo non ci prendere in giro sto scherzando e non scherzare con noi non diventete i coglioni lui di lecca merdhe a chi ed ora urlate mai fatta una canna no no tu altre droge pesanti no siete mai andati con un trams no e invece samuele casone si si arrivederci a tutti grazie dell'intervista